Momenti di profonda commozione alla Certosa di San Lorenzo a Padula nel corso della visita di una delegazione ciecoslovacca al Monumento Certosino, promossa dalla società cooperativa Nova Civitas di Padula. La visita si è tenuta nella mattinata di domenica e proprio nel Monumento Certosino si è costituita la legione ciecoslovacca durante la Prima Guerra Mondiale. E sempre la Certosa di San Lorenzo è stata la sede di un campo di prigionia ciecoslovacco durante la Prima Guerra Mondiale. Per questo Nova Civitas ha organizzato in occasione della visita una cerimonia commemorativa in ricordo dei prigionieri ciecoslovacchi a Padula, confluiti successivamente nella legione ciecoslovacca dell'esercito italiano. Alla cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una corona di fiori, hanno preso parte il consigliere dell'ambasciata cieca in Italia, Joseph Spanik, con una delegazione di 40 persone. L'ambasciatore italiano Enrico Padula, il sindaco di Padula Paolo Imparato, lo storico Vincenzo Pinto ed il presidente della Nova Civitas Antonio Casella. Dopo la commemorazione, gli ospiti ciecoslovacchi hanno visitato la mostra Dov'è la Patria Nostra, allestita da Nova Civitas nella passeggiata coperta della Certosa di San Lorenzo a Padula.